Allora, perché esiste la piattaforma di energie? Esiste perché c'è convivenza? Esiste perché c'è un'opportunità, convivenza, quando qualcuno decide di fare il massimo e sceglie il territorio, o può sentire, o c'è il diritto, l'onore, oppure c'è il diritto, c'è già un'opportunità, che è il sbaldo e lo sbaldino, e l'aspetto è il diritto prima. Grazie. Ci stai usando? Lo sanno? Lo sanno? Lo sanno? Sì, ma... Ci stai usando? Ci stai usando? Ci stai usando? Infatti, prima, su un passato, ad esempio, il sbaldo, poi, infatti, no, 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 ma lo sbaldino l'avevo visto, non l'avevo visto lo sbaldo. Poi su un passato, l'avevo visto lo sbaldo, aspetta un po', lo sbaldo, lo sbaldo, lo sbaldo, lo sbaldo. e lo sbaldo.